Benvenuti nel canale Juventus Oggi, il miglior canale di notizie della Juventus su YouTube, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità dalla Juventus. Pogba sta gradualmente tornando alla sua forma. Contro il Lecce, ha giocato circa 20 minuti. Allegri è rimasto soddisfatto della fiducia dimostrata da Pogba in quella partita. Nel prossimo incontro contro l'Atalanta, domenica, Pogba avrà sicuramente più minuti di gioco. Tuttavia, la dirigenza della Juventus non è per niente soddisfatta della prima stagione di Paul Pogba, in quanto non è stato utilizzato con la frequenza desiderata. Inoltre, molti tifosi della Juventus stanno chiedendo una riduzione del salario per il francese. Secondo le informazioni, Pogba e la dirigenza della Juventus si incontreranno alla fine della stagione. La dirigenza intende informarlo che non è stata soddisfatta dal modo in cui il francese ha gestito il suo infortunio al menisco, rimandando l'operazione, il che ha danneggiato il recupero. Per quanto riguarda la riduzione del salario, non ci sono ancora informazioni che la Juventus chiederà a Pogba una riduzione del salario, come la maggior parte dei tifosi della Juventus vorrebbe. E tu, tifoso della Juventus, cosa ne pensi della prima stagione di Pogba alla Juventus?